Per il settore del turismo è iniziata la stagione più calda. I primi riscontri sono buoni dopo il periodo sofferto della pandemia. Fino al 2019 i flussi erano in crescita e le prospettive erose. Poi l'anno più buio dei contagi e delle restrizioni. Nel 2021 è iniziata la ripresa, i turisti sono aumentati del 70% rispetto al 2020, quindi hanno raggiunto la metà circa dei numeri pre-Covid. Dai dati rilevati nel 2021, sottolinea la consigliera provinciale delegata al turismo Fiorenza Albani, possiamo certamente osservare segnali di ripresa per l'arrivo e la presenza di turisti in provincia di Lecco, che dobbiamo cogliere e sostenere investendo su iniziative e progetti capaci non solo di attrarre turisti nuovi e affezionati, ma anche di favorire la loro permanenza sul territorio lecchese lariano. Le restrizioni che per un lungo periodo hanno congelato i viaggi internazionali, prosegue, hanno favorito la riscoperta del turismo di prossimità che ha oltretutto garantito soggiorni più lunghi. Ora la sfida deve essere quella di fideizzare questi turisti che hanno scoperto o riscoperto la bellezza del nostro territorio e il piacere di soggiornarvi. Insieme alle temperature si alzano quindi anche le aspettative. Il turismo deve ancora recuperare terreno, è vero, ma se si guarda all'offerta del territorio emerge tutta la volontà di ripristinare il trend pre-crisi. Le strutture recettive a fronte di 200 cessazioni di attività nel primo anno di pandemia sono aumentate di 250 unità nell'anno successivo. Si punta molto anche sull'unico dato positivo riscontrato nel 2020, quando le restrizioni sui viaggi erano più stringenti e sono aumentati i turisti italiani sul territorio lecchese. Fino al 2019 erano gli stranieri a fare da traino al settore, ma la tendenza si è invertita nel 2020 con il 60% di connazionali sulle presenze totali. Altro importante dato in crescita riguarda i giorni di permanenza, che sono passati da poco più di 2 nel 2019 a 3,5 nel 2021. Segno di un turismo che non solo sta tornando a crescere, ma sta anche cambiando.